Sì, in realtà la partita va valutata poi penso sui 90 minuti dove è stato fatto un ottimo primo tempo giocando quasi interamente nella metà campo avversaria creando anche due, tre, quattro potenziali palle e gol dove non siamo riusciti a buttarla dentro. Il secondo tempo sicuramente ci siamo un po' abbassati, abbiamo cambiato tre, quattro giocatori rispetto all'ultima partita quindi c'era anche Melchiori di rientro dopo due settimane ferme, ha fatto un'ottima partita ma non è che poi il secondo tempo un pelo di calo dal punto di vista fisico ci sia stato, ho detto questo però c'è anche da dire che se la squadra veniva riconosciuto il fatto di essere difensivamente molto fragile oggi la squadra non ha concesso praticamente nulla quindi c'è grandissima soddisfazione per l'applicazione che c'è stata da parte dei ragazzi su tutte e due le fasi, ovvio che non possiamo essere contenti al 100% perché avremmo voluto fare i tre punti, un pizzico di sfortuna sicuramente in questo momento ce l'abbiamo anche perché sulla giocata di Melchiori prendere una traversa, un incorcio non è sicuramente la cosa più positiva del mondo le ultime due palle messe dentro da Pelamatti sono rimaste a centro area e poi ci sono i momenti della stagione dove ogni rimpallo ti arriva davanti alla porta, questo non è uno di quei momenti di certo, ripeto, non possiamo essere soddisfatti al 100% perché il risultato non è stato un risultato pieno ma dobbiamo ripartire da una prestazione secondo me importante da parte di tutti e da una solidità difensiva che deve avere continuità nelle prossime partite per sperare di portare a casa i punti